Avevo proprio voglia di due linguine con i pomodorini e poi alla fine ci ho aggiunto anche le olive nere e lo sgombro sott'olio che è un pesce azzurro e contiene omega 3. Sono pronti in 10 minuti e quindi all'opera! Condite i datterini con un cucchiaieno di pesto e in padella fate soffriggere aglio, peperoncino, olive e olio dello sgombro. Dopo circa 5 minuti mettete da parte le olive, calate i pomodorini e mettete il coperchio. Lasciate cucinare così per 10 minuti. Togliete il coperchio, aggiungete lo sgombro e le olive, qualche mestolo di acqua di cottura e portate al bollore. Scolate le linguine belle al dente direttamente in padella ed amalgamate bene. E ora non vi resta che leccarvi i baffi con queste linguine e goderne insieme a me.